Quando sono entrato nell'hangar ho visto con i miei occhi una nave spaziale aliena che il servizio segreto della Marina degli Stati Uniti stava analizzando. Era un funzionario federale, assegnato in quella zona per prelevare un uomo, un evaso. Quando arrivò al cancello di Groom Lake per effettuare l'arresto, lo lasciarono entrare, poi lo affidarono ad una scorta, o meglio, prima lo perquisirono e poi gli assegnarono una scorta. Appena pronti, un uomo della scorta gli diede una sacca nera e gli disse mettila nella cintura, perché se dovesse scattare una sirena d'allarme, ci mettiamo questa sulla testa e ci sdraiamo a terra a faccia in giù finché il campo non è libero. Qui dentro ci sono delle cose top secret che nessuno può vedere. Allora lui chiese, che succede se alzi la testa? E gli risposero, se no stai giù, prima ti sparano e poi ti fanno le domande. Ho potuto intervistare alcune persone che avevano lavorato alla base di Groom Lake. Uno di loro aveva partecipato a programmi top secret per 12 dei suoi 30 anni di servizio. Quando lo incontrai, per prima cosa gli domandai, lei crede negli UFO? Lui mi guardò dritto negli occhi e mi rispose Posso affermare con tutta certezza che gli UFO esistono veramente. Può dirmi di più? E lui disse, no non posso. Un anno dopo ci troviamo di nuovo a parlare dell'attività di Groom Lake e gli chiese ancora Insomma, lei avrà un'idea di quello che succede laggiù? E lui rispose, guardi, non posso parlarne fino al 2025, ma abbiamo cose nel deserto del Nevada che farebbero invidia anche a George Lucas. Ci troviamo in uno dei posti più misteriosi del mondo. Dietro queste montagne inizia il centro del mistero, la base dei test super segreti dell'aeronautica e della marina statunitense, nota come Area 51. Qui vengono collaudate le navi spaziali aliene recuperate dalle forze armate americane. Lo scopo di questo film era far luce sulle indiscrezioni e alla fine siamo riusciti persino ad avvistare uno di questi misteriosi UFO proprio qui, vicino a questa cassetta della posta, nel deserto, sulla strada per Groom Lake. Questa è una zona militare nel deserto del Nevada, un'area di circa 26.000 chilometri quadrati. A sud confina con la cittadina di Mercury, ad ovest con l'autostrada 95 e qui su a nord-ovest con Tonopah, a nord con Crystal Springs e qui sotto con Las Vegas. In questa zona si trova l'installazione sotterranea dove vengono effettuati test nucleari per il dipartimento dell'energia con le varie aree specificate. Questa si chiama la striscia di Iacca. Qui su invece c'è il poligono di Tonopah dove si effettuavano i voli di prova degli F-117 e dove vengono sviluppati altri programmi segreti. Tutta la zona qui a nord viene utilizzata per le esercitazioni Red Flag dell'aeronautica che sono l'equivalente delle esercitazioni Top Gun della Marina. Partono dalla base Nellis, qui, e sorvolano tutta questa zona. Proprio qui al centro si trova la cosiddetta Area 51, conosciuta anche come Watertown e come il Ranch. Nel cuore di questa area c'è l'installazione di Grom Lake che ha un perimetro di 16 chilometri per lato. È qui che si svolgono le attività più segrete. Circa 16 chilometri a sud del complesso di Grom Lake c'è una zona ancora più segreta dove vengono sperimentati i dischi volanti chiamata Area S4. Dentro la montagna ci sono nove hangar e i voli di prova vengono effettuati sulla Immigrant Valley ed in questa zona qui sopra. Ed è proprio qui che vengono avvistati da quel punto sulla strada dove si trova la cassetta postale, esattamente qui, a circa 22 chilometri da dove si riesce ad avvistare gli oggetti volanti. Nella zona qui a nord c'è il poligono di Tonopah ed una delle persone che lavora qui, dove c'è questo lago, un giorno ha visto aprirsi una grande porta nel letto del fiume in secca e dalla porta è uscito un disco volante. Fino al 1951 l'Area 51 venne utilizzata essenzialmente come base di addestramento della Marina poi la Lockheed insieme alla CIA la trasformarono in una base sperimentale segreta per effettuare i test sugli aerei Spia U2. Negli anni 1959, 60 e 61 vi furono sperimentati gli SR-71 era la zona ideale per i test su attrezzature ed aerei segreti perché era molto isolata con i lati circondati dalle montagne insomma era dispersa nel nulla insomma assicurava il livello di protezione di cui aveva bisogno dopo il 1960 iniziarono a condurre test non solo sugli aerei ma anche su attrezzature, macchinari e su tutti i progetti riservati secondo le mie ricerche nel 1972 ci fu un blackout totale di informazioni e di dati durato ben 18 mesi nessuno sa cosa sia accaduto tra l'estate del 1982 e il gennaio no, l'estate 1972 e il gennaio 1974 non ci sono dati di alcun tipo ho parlato con gli addetti della sicurezza che non hanno idea di cosa sia accaduto lì dentro ed io neppure e non posso fare congetture perché il progetto relativo ai dischi volanti almeno secondo le informazioni che ho raccolto il progetto denominato Red Light era iniziato nel 1960 avevano cercato di far volare uno o due navi ma ci fu un gravissimo incidente e le operazioni vennero interrotte per alcuni anni i voli di prova ripresero successivamente credo intorno al 1980-81 sempre in quella zona posso dirlo quasi con certezza perché le misure di sicurezza vennero drasticamente aumentate in quel periodo a sud di Groom Lake nell'angolo nord-orientale del centro sperimentale del Nevada c'è il Papoose Lake che è un lago salato dove si trova una zona super segreta denominata Area S4 e credo che sia proprio lì che vengono condotti gli esperimenti sui dischi volanti fra le mie varie fonti di informazioni quella primaria è Bob Lazar il quale ha lavorato su uno dei nove dischi volanti lì custoditi colonnello Stevens lei ha condotto investigazioni in merito a un progetto segreto sui dischi volanti nell'Area 51? sì iniziai a prendere la situazione sul serio nel 1978 quando individuai una delle persone che aveva partecipato ai lavori di conversione della base in un qualcosa di molto speciale presero la pista di atterraggio e la allestirono nei sotterranei insieme a laboratori speciali collegarono il tutto e poi ricostruirono la base in modo tale da farla apparire uguale a prima il materiale che è attualmente conservato nell'Area 51 credo che provenga dall'incidente di Roswell del 1947 da quello di Hatzek nel Nuovo Messico nel 1948 e da un altro crash lungo il confine con il Nuovo Messico avvenuto nel 1949 o 50 i rotami vennero inizialmente trasferiti allo Salamos ed in altre zone del Nuovo Messico sotto il controllo della Commissione per l'Energia Nucleare ancora in installazioni super segrete ma si trattava di strutture troppo piccole e ritengo quindi che la base principale sia stata costruita nell'Area 51 quando ultimarono i lavori di Grunfield sul lago essiccato e la convertirono in una speciale installazione di ricerca credo che trasportarono nell'Area 51 tutto il materiale o almeno gran parte di quanto era stato recuperato anche in altri luoghi per i loro progetti di ricerca il cambiamento avvenne nel 1947 o 48 probabilmente all'inizio del 1948 quando modificarono il campo con edifici ed impianti per un habitat in atmosfera controllata adatto agli ospiti extraterrestri almeno così suppongo e con nuovi laboratori di ricerca e da allora hanno proseguito con continui lavori di ampliamento e ristrutturazione è vero che lei ha ottenuto conferme da fonti militari? sì, ma non da un militare bensì un civile che ha diretto una serie di importanti programmi militari di ricerca qui in Nevada programmi ad altissimo livello e al massimo grado di riservatezza viene da una famiglia molto stimata nel Nevada ed è del tutto attendibile egli ha confermato che la tecnologia aliena è qui in Nevada fin dai primi anni 50 anzi prima della costruzione della base di Groom Lake anzi una delle ragioni per cui è stato costruito Groom Lake era per studiare questa tecnologia aliena mi ha detto che vi hanno custodito per alcuni anni un alieno vivo con il quale all'inizio ci furono problemi di comunicazione ma alla fine li superarono il testimone purtroppo è rilutante ha paura per la sua famiglia ma ha accettato di fornire una deposizione su videocassetta da diffondere soltanto dopo la sua morte quando verrà resa nota non solo potrà confermare la tesi di Bob Lazar ma finalmente farà luce su quello che i militari il nostro governo sanno sulla presenza aliena da ormai 45 anni incluso Roswell Las Vegas, Nevada la città dei casinò la città delle mille luci e come non tutti sanno ultima frontiera davanti a un mondo pieno di segreti militari è da qui che iniziamo la nostra inchiesta al centro del mistero perché oltre le montagne a nord di Las Vegas si estende la base sperimentale del Nevada un mondo a parte circondato dai confini più sorvegliati della terra dai tempi della cortina di ferro qui si lavora sugli ordigni nucleari qui lo stealth è stato celato ai nostri occhi ed è sempre qui che vengono testati velivoli ancora più inconsanti wow questo è incredibile scambio magnifico le nostre indagini ci hanno portato sino a John Lear uno dei migliori piloti degli Stati Uniti figlio del leggendario progettista di aeroplani William Lear al suo attivo John ha più di 16.000 ore di volo su oltre 160 tipi di aeromobili in più di 50 paesi ha stabilito 17 record del mondo di velocità è l'unico pilota a possedere tutti i titoli e i certificati di volo rilasciati dall'ente federale aeronautico dopo la guerra del Vietnam ha svolto missioni in tutto il mondo per conto della CIA e di altri enti governativi nonché voli sperimentali per la marina e l'aeronautica quello che Lear ha da dire riguardo alla base segreta per i test di UFO nell'area 51 nasce nel 1988 quando semplici voci divennero una realtà grazie all'incontro con un giovane fisico nucleare Robert Lazar Nell'estate del 1988 feci stimare la mia casa ed il perito, un appassionato di UFO portò qui un suo amico scienziato che aveva lavorato presso il laboratorio di Los Alamos il perito voleva la sua opinione in merito agli UFO in quel periodo io stavo partecipando a molti convegni era il 1988 e il mio nome circolava nell'ambiente insomma incontrai questo signore Bob Lazar e lui non ci credeva assolutamente mi disse che lavorava a Los Alamos sull'SDI, le guerre stellare ad un livello elevato di sicurezza aveva accesso ad una serie di altri compartimenti quindi era a conoscenza di molti segreti mi disse che se fosse esistito qualcosa di simile se ci fosse stata qualche copertura lui lo avrebbe saputo nei tre o quattro mesi successivi approfondimmo la conoscenza con Bob gli passammo informazioni che lui controllò con persone di sua fiducia che ancora lavoravano a Los Alamos in particolare gente dell'archivio riservato gli dissi che il progetto Grudge nonostante l'Air Force lo avesse dichiarato terminato nel 1949 era ancora attivo grazie ai suoi amici a Los Alamos con accesso ad informazioni riservate Bob poteva verificare che il progetto andava avanti gli avevo riferito anche un'altra cosa cioè che uno degli alieni in custodia si trovava presso un'installazione segretissima denominata YY2 Bob scoprì che a Los Alamos c'era in effetti una zona con divieto di accesso denominata YY2 questo non voleva dire che ci fossero degli alieni ma era una prova del fatto che io ero a conoscenza di una serie di cose piuttosto delicate quindi c'erano elementi a sufficienza e Bob decise di approfondire dato il suo altissimo livello di specializzazione le sue due lauree e due master del MIT Massachusetts Institute of Technology avendo conosciuto il dottor Teller il padre della bomba H mandò il suo curriculum al dottor Teller il quale poi lo convocò per un colloquio Teller gli propose due posti o presso la EG&G di Las Vegas o presso il laboratorio Lawrence Livermore in California Bob gli rispose che voleva lavorare nell'area 51 ovviamente non gli disse il motivo ma il suo obiettivo era stare il più vicino possibile al luogo dove pensavamo si svolgessero gli esperimenti sui dischi volanti nel giro di sei settimane venne contattato dalle EG&G fece tre interviste per ottenere il nulla osta alla segretezza e tre colloqui per accertare la sua preparazione tecnica rimasero così impressionati che all'inizio non volevano neanche assumerlo la prima cosa la venne a sapere il 6 dicembre 1988 Bob venne qui come spesso faceva la sera io stavo firmando degli assegni lui si sedette davanti a me e io gli chiesi allora Bob come va? e lui mi rispose oggi ho visto un disco ero talmente sconcertato gli dissi cosa? e Bob mi rispose oggi ho visto un disco ed io uno dei nostri o dei loro? e lui dei loro gli chiesi sei andato alla base sperimentale? e lui mi rispose si sono appena tornato era la prima volta ed io gli dissi oh mio dio ma cosa ci fai qui allora? non mettere in pericolo il tuo nulla osta lavora lì per un po' e cerca di scoprire cosa succede e lui mi rispose no dopo tutto quello che hai dovuto subire nessuno ti voleva credere e quindi voglio raccontarti esattamente quello che ho visto e per le successive 3 ore e 47 minuti mi descrisse i particolari della sua prima visita nella zona S4 della base della ricerca del Nevada e cioè che sì avevamo 9 veicoli extraterrestri e generatori di energia che aveva ricevuto informazioni sugli esseri che li pilotavano e su altri argomenti coperti da segreto mi disse che avevamo una base segreta sulla Luna e un'altra base segreta su Marte ed una serie di altre cose e sembravano cose incredibili che se non avessi saputo che Bob era assolutamente sincero avrei dovuto sospettare di lui ma lo conoscevo ormai da tempo ed ero certo che quanto mi aveva raccontato era solo ed esclusivamente la verità un giorno ebbi modo di incontrare il dottor Teller a Los Alamos ci fu una riunione e conversammo un po' di lì a breve mi trasferì a Las Vegas dove la comunità scientifica conduce un altro tipo di attività ma dopo qualche tempo decisi di rientrare ed inviai domande di assunzione a vari laboratori nazionali e anche al dottor Teller Teller mi telefonò per dirmi che forse c'era qualcosa che mi poteva interessare e mi suggerì di presentarmi per un colloquio dopodiché qualcuno della G&G mi chiamò confermandomi l'incontro mi dissero subito che la G&G non c'entrava nulla e che usavano solo il loro edificio per i colloqui in breve fu chiaro che per loro ero troppo qualificato per quell'impiego ma che forse avrebbero avuto qualcosa di più adatto in futuro non ricordo la data ma mi richiamarono per un nuovo colloquio e mi dissero che era per non ricordo esattamente le parole qualcosa che aveva a che fare con il sistema dei campi di propulsione e pensai che doveva essere un progetto segreto a cui si stava lavorando solo successivamente scoprì che si trattava di un programma di retro ingegneria su uno scafo a leno così presi un volo dall'aeroporto McKenna di Las Vegas e da lì andai a Groom Lake su un 737 atterrammo a Groom Lake e lì presi un pullman verso non sono certo della distanza ma a circa 25 chilometri a sud in una zona dove c'è un lago salato chiamato Papoose Lake e proprio sul fianco della montagna si trova l'installazione S4 che impressione ebbe quando entrò lì la prima volta? sembrava tutto molto militare non un ambiente scientifico c'erano molti controlli con massimi livelli di sicurezza comunque se andasse bisognava essere accompagnati da una guardia armata anche alla toilette tutte le porte si aprivano e si chiudevano con il baggio magnetico personale era un'atmosfera molto oppressiva quante volte è dovuto entrare in quella zona prima di poter vedere il velivolo? credo due o tre forse due giorni prima di poterlo vedere cosa ha provato la prima volta che ha visto l'oggetto? cosa ho provato? beh tornando indietro nel tempo la prima volta che vidi l'astronave fu quando entrai nell'hangar e dissi fra me e me questo spiega finalmente tutti questi avvistamenti di UFO è un veicolo militare segreto in fase di sperimentazione e questo è quanto in realtà fu la seconda volta che lo vidi quando entrai al suo interno che mi resi conto di cosa stava accadendo e cioè che si trattava di un mezzo alieno ovviamente questo avvenne dopo che avevo letto il materiale informativo e quindi lì cambiò tutto era una sensazione diversa qualcosa di incombente mi sentivo come un intruso è molto difficile da descrivere provi comunque mi sembrava a presente le foto di Billy Meyer scattate durante i suoi avvistamenti era incredibilmente simile a quelli delle sue foto una forma apparentemente molto sfuggente ma netta di uno scalfo discoidale è piuttosto difficile descriverlo così senza disegnarlo ma aveva la forma classica del disco volante di un tipo solo o diversi? in totale i dischi erano nove ma io ho visto e ho lavorato a livello di retroingegneria solo su un oggetto erano i hangar separati e comunque tutti visibilmente differenti le hanno mai detto in che modo erano stati recuperati dall'intelligence della marina? no assolutamente no molta gente ha avanzato varie ipotesi che erano stati abbattuti o che erano precipitati ma non sembravano danneggiati e quindi nutro seri dubbi su queste ipotesi ce ne puoi descrivere l'interno? è molto semplice c'è un solo colore dominante un grigio peltro anche l'esterno è dello stesso colore non ci sono spigoli all'interno tutte le attrezzature hanno una forma arrotondata anche i sedili e gli alloggiamenti per gli amplificatori è come se fossero stati fusi nella cera e poi modellati con queste forme curviline incluse le giunture fra le pareti e il pavimento l'interno è essenziale molto arioso l'uso dello spazio non sembra affatto funzionale ci sono tre punti quello più basso ospita gli amplificatori montati su basi mobili sul ponte di mezzo da dove si accede all'interno della nave ci sono i sedili e gli amplificatori e poi c'è il ponte superiore con una sezione limitata a cui non avevo accesso non so cosa ci fosse per lei il velivolo era alieno? assolutamente sì alieno non c'è dubbio perché? prima di tutto lo scopo del progetto era di analizzarlo se si fosse trattato di un mezzo degli Stati Uniti non avremmo perso tempo a cercare di capire come lo avevamo costruito secondo luogo per le dimensioni delle attrezzature interne per le dimensioni dei sedili e dei materiali utilizzati a noi totalmente estranei e poi per il carburante l'elemento 115 che è virtualmente inesistente ho sommato questi fattori alle informazioni che mi erano state fornite in cui veniva chiaramente indicato che si trattava di un mezzo extraterrestre le hanno detto come funzionava il sistema di propulsione? faceva parte del mio lavoro di ingegneria inversa cioè capire il funzionamento del sistema di propulsione avevano già fatto qualche progresso ma non so esattamente da quanto tempo il velivolo si trovasse lì se lo stessero esaminando da uno o dieci anni e comunque con scarsi progressi il sistema è decisamente impressionante è composto da due parti dagli amplificatori di gravità e dal reattore che fornisce energia il reattore funziona ad annichilazione completa alimentato ad antimateria l'annichilazione completa è praticamente la reazione nucleare più efficace che esista tra le tre ovvero fusione fissione ed annichilazione utilizza un elemento super pesante l'elemento 115 questa sarebbe la sua collocazione sulla tavola periodica che sulla terra non è stato ancora sintetizzato a mio avviso in alcuni sistemi stelulari questa sintesi avviene spontaneamente questo elemento viene bombardato in un acceleratore di dimensioni estremamente ridotte l'elemento che viene bombardato subisce una fissione spontanea e produce particelle di antimateria queste grazie ad un dispositivo termoelettrico efficace al 100% interagiscono con la materia gassosa e vengono trasformate in elettricità ora l'efficienza al 100% per qualunque dispositivo elettrico è sostanzialmente impossibile lo dice la prima legge della termodinamica già che si devono verificare dispersione di calore e altre perdite del genere ma io non ne ho rilevata alcuna in questo sistema è una tecnologia assolutamente stupetacente l'incredibile quantità di energia che viene generata dal sistema alimenta gli amplificatori e come prodotto collaterale del bombardamento dell'elemento 115 si genera un fenomeno interessantissimo cioè una particolare onda la cosiddetta gravitazionale A tale onda viaggia in modo molto simile alle microonde viene applicata agli amplificatori gravitazionali e per mezzo della corrente elettrica generata dal reattore viene amplificata e focalizzata il segnale così amplificato viene reso leggermente afasico e grazie a questo è possibile attirare o respingere un qualsiasi corpo gravitazionale il velivolo è in grado di decollare anche utilizzando un solo amplificatore questa nave in particolare era dotata di tre amplificatori e quando attiva un solo amplificatore per allontanarsi dalla terra utilizza la cosiddetta configurazione Omicron per viaggiare nello spazio la nave ruota su un lato focalizza i tre amplificatori su un unico punto situato ad enorme distanza poi gli amplificatori e il reattore vengono portati a massima potenza e praticamente tirano il tessuto stesso dello spazio distorcono lo spazio tempo e lo attirano verso la nave che così è in grado di coprire enormi distanze in un lasso di tempo praticamente nullo la nave non si sposta in modo lineare perché distorce lo spazio il tessuto stesso dello spazio e quindi anche i campi gravitazionali ed il tempo sono strettamente connessi quando si distorce un campo gravitazionale si distorcono anche lo spazio ed il tempo e queste non sono semplici teorie sono cose che già conosciamo da molto tempo solo che non abbiamo la possibilità di poterle verificare apparentemente questa civiltà lo ha messo in pratica e voi siete mai riusciti a farne volare uno? sono stati fatti molti collaudi ma non al di fuori dell'atmosfera erano voli brevi a bassa quota del resto hanno un oggetto di valore inestimabile e non intendono correre dei rischi inutili o distruggerlo a causa del campo gravitazionale terrestre o volando a quote troppo elevate ma ho assistito ad alcune prove al di fuori della recinzione di sicurezza e in una occasione ho visto tutto a non più di 30 metri dal velivolo l'oggetto come manovrava in volo? era molto silenzioso si alzava generando un debole sibilo la superficie inferiore emanava una luce azzurra probabilmente dovuta all'altissimo voltaggio generato dopo un po' man mano che aumentava di quota la luce scompariva e sembrava che galleggiasse dolcemente nell'aria per poi poggiarsi al suolo il tutto in modo assolutamente tranquillo e quasi totalmente silenzioso potrebbe descrivere i documenti informativi che le sono stati forniti e il loro contenuto? si trattava di un gran numero di documenti circa 120 relazioni molto concise in pratica mi consentivano un'idea generale delle altre ricerche condotte sul velivolo ma la quasi totalità delle informazioni dei dettagli tecnici riguardava il sistema di propulsione e generazione di energia cioè il campo in cui avrei dovuto lavorare c'erano anche documenti in cui si affermava che la nave era aliena e i rapporti di alcune autopsie non erano molto approfonditi perché non c'era nessuna ragione per fornirmi informazioni dettagliate su questo ma con fotografie anzi per l'esattezza c'erano due fotografie di un corpo alieno con il torace aperto che aveva un solo organo che era stato rimosso e sezionato dal mio punto di vista non medico sembrava che questo organo espletasse non una ma più funzioni poi vi erano altri documenti che descrivevano le ricerche metallurgiche condotte in altre parti della nave insomma erano dei brevi riassunti del lavoro svolto dai vari gruppi e viceversa sicuramente anche loro avranno ricevuto dei resoconti delle brevi relazioni del lavoro svolto dal mio gruppo indicavano il luogo di provenienza degli alieni sì dal sistema Z reticoli non so se l'informazione sia stata ottenuta dallo scafo stesso o da mappe astrali o strumenti di bordo c'erano informazioni su questa civiltà sulla loro storia o su precedenti contatti con il genere umano non esattamente non c'era scritto è andata così si faceva riferimento ad un intervento alieno avvenuto nel passato moltissimi anni fa risalente a milioni di anni fa dei documenti che ho visto ma ripeto erano relazioni assai sintetiche documenti riassuntivi non so se fossero veri o falsi posso solo fare supposizione tuttavia le informazioni sul sistema di propulsione erano tutte vere ne sono certo perché ci lavoravo per il resto c'erano solo accenni al contatto con la terra avvenuto più di 10.000 anni fa ad alterazioni genetiche che hanno prodotto un essere scimmiesco ed altre dichiarazioni di questo tono ha mai visto da vicino un alieno vivo o morto? no solo in fotografia ho dichiarato più volte che attraversando una certa zona ho guardato in una finestra ed ho scorto qualcosa di piccolo ma non che fosse il corpo di un alieno è inutile saltare alle conclusioni e dire sicuramente deve aver visto un alieno perché poteva trattarsi semplicemente di un manichino creato come modello sulle loro differenze corporee e sulle dimensioni dei sedili e quindi ribadisco che in realtà non ho visto nessun corpo vivo che si muovesse in linea di principio rispondo di no perché hanno scelto lei per questo lavoro? è molto difficile rispondere non saprei sicuramente come fisico non sono il più qualificato quindi non ne ho la più per l'idea viste le diverse angolazioni forse si sentivano frustrati perché non riuscivano più a fare passi avanti era da lungo tempo che non andavano da nessuna parte o forse volevano una persona nuova qualcuno che potesse vedere le cose in maniera diversa e d'altronde io ho la fama di essere così perché ha deciso di divulgare queste informazioni? quando? perché? è difficile rispondere ci sono vari motivi ad esempio per le pressioni che ho subito o per mia protezione personale e anche perché è ingiusto che su queste informazioni venga mantenuto uno strettissimo riservo dopo che lei ha reso pubblica queste cose hanno cercato di chiuderle la bocca in ogni modo mi hanno sparato mentre imboccavo l'autostrada qui a Las Vegas alcuni miei amici sono stati minacciati hanno perso il posto di lavoro è successo di tutto era scontento dell'eccessivo livello di sicurezza della base dell'ambiente opprimente del non elevato livello qualitativo dei ricercatori e della gestione erometica del programma di ricerca che impedisce di capire il reale funzionamento di una tecnologia aliena pensava che queste informazioni dovessero essere condivise con gli altri che il mondo intero ne potesse beneficiare allo stesso tempo stava attraversando una crisi personale che lo portò a confidarsi con persone di sua conoscenza quando lo scoprirono iniziò a preoccuparsi per la sua incolumità gli puntarono una pistola alla testa gli dissero che si trovava in un mare di guai e penso che la ragione per cui volesse parlare con me così mi disse all'inizio era che cercava di proteggersi pensava che rendendo pubblica questa storia non avrebbero osato fargli del male nei mesi successivi al nostro colloquio subì gravi intimidazioni tese a ridurlo al silenzio ma ha avuto il coraggio di andare fino in fondo e penso che abbia preso la decisione giusta perché oggi non sarebbe vivo se non avesse parlato davanti ad una telecamera Michael ho lavorato in questa rete televisiva di Las Vegas per più di dieci anni ho indagato su storie di corruzione politica sul crimine organizzato sulla droga ma non mi era mai capitato una storia come questa quando ho incontrato Bob Lazar per la prima volta ero soltanto parzialmente interessato al materiale sugli UFO avevo condotto alcuni talk show sull'argomento e sapevo che il pubblico era molto interessato però non sapevo se sarei riuscito a realizzare un programma sull'area 51 le storie sull'area 51 e sul fatto che lì ci sia una possibile tecnologia aliena circolano almeno da quando mi trovo qui a Las Vegas ma non era mai stata fatta un'indagine approfondita soprattutto perché tutti gli addetti ai lavori del programma si erano rifiutati di parlarne pubblicamente prima di Bob Lazar quando l'ho incontrato per la prima volta ero con il mio direttore gli abbiamo posto molte domande di puntualizzare ed era ovvio che aveva una storia incredibile da raccontare ma abbiamo deciso di andare avanti proprio perché Bob sembrava molto attendibile sfortunatamente cercando di verificare il suo background ci siamo imbattuti nelle prime difficoltà è stato un compito molto arduo e lo è ancora abbiamo scoperto che negli istituti dove diceva di aver studiato non risultava alcuna traccia della sua presenza i suoi precedenti datori di lavoro negavano che avesse mai lavorato per loro ed in particolare il laboratorio nazionale di Los Alamos che era il punto cruciale su cui verteva tutta la sua credibilità abbiamo pensato se riusciamo a provare che ha lavorato lì vuol dire che deve aver pur studiato da qualche parte perché lì non assumono il primo venuto e se aveva lavorato al laboratorio nazionale di Los Alamos a qualche progetto segreto era plausibile che fosse stato preso per lavorare a qualche altro programma segreto come per esempio l'S4 a Papoose Lake però al laboratorio di Los Alamos continuavano a negare che Bob avesse mai lavorato per loro e il loro ostruzionismo era totale non rispondevano alle nostre telefonate e alle nostre lettere era come se volessero impedirci di andare avanti alla fine comunque siamo riusciti a mettere insieme alcuni indizi che provavano che Bob aveva lavorato lì ad esempio il giornale interno del laboratorio lo annoverava come fisico la guida telefonica interna indicava che era un dipendente del laboratorio abbiamo parlato con alcune persone che avevano lavorato lì con lui e ci hanno confermato che Bob era stato impiegato in progetti classificati che era un fisico che era stato lì proprio questa settimana quattro anni dopo aver iniziato le nostre indagini qualcuno al laboratorio di Los Alamos finalmente ha ammesso che sì Bob lavorava lì sì lavorava al centro meso sì al centro meso si effettuavano ricerche riservate ci è voluto molto tempo ma finalmente ora sappiamo che Bob lavorava lì che aveva il nulla osta alla segretezza ma sappiamo anche che molte delle informazioni che abbiamo richiesto non ci sono ancora state fornite ci chiediamo ancora perché cosa vi ha convinto che quella di Lazar era la verità? non sono sicuro al cento per cento che tutto ciò che ci ha raccontato corrisponda alla verità perché in quanto giornalista devo sempre essere scettico almeno in parte ma mi vengono in mente un paio di cose primo che Bob ha sempre raccontato la stessa storia quella che mi raccontò delle sue esperienze al centro S4 la prima volta che ci siamo incontrati ed è la stessa storia che racconta ancora oggi la cosa più importante è che quando Bob ha avuto dei problemi giudiziari per molte persone questo ha significato perdere completamente la propria credibilità mentre in tribunale non ha cambiato una virgola della sua versione e quando gli stessi magistrati hanno cercato inutilmente di verificare il suo curriculum soltanto allora si risolsero a condannarlo beh la mia risposta al tribunale fu benvenuti nel club non ci siete riusciti nemmeno voi Bob rischiava almeno 60 anni di carcere se non avesse raccontato in tribunale la verità circa il suo background e la versione che fornì era identica a quella della prima volta ed è la stessa di oggi dopo aver intervistato la Zara in televisione ha avuto contatti con altri testimoni dell'area 51? si in totale ormai più di una dozzina di persone hanno confermato in parte il racconto di Bob non hanno conoscenze altrettanto ampie comunque si tratta di conferme rispetto alle sue dichiarazioni il problema è che nessuno è disposto ad uscire allo scoperto mi forniscono sì degli ispezioni di informazioni in privato ma per ovvie ragioni chiedono che il loro nome non venga rivelato sono stati fatti vari tentativi per costringere questa gente a tenere la bocca chiusa basta citare tre esempi il primo un ex ingegnere tecnico televisivo di Las Vegas con cui ho lavorato ma che poi è stato trasferito nel corso di una telefonata mi disse che aveva intravisto un disco volante coperto da un telone in un edificio a Groom Lake cercai di organizzare un'intervista in collegamento telefonico con una squadra di riprese esterne nella città dove si era trasferito l'intervista mi venne concessa a patto che oscurassi il suo viso il giorno dopo aver perfezionato il nostro accordo stava uscendo da casa e trovò proprio lì davanti una macchina parcheggiata con due uomini in abiti civili che comunicavano tra loro con delle radio portatili lì per lì non gli diede molto peso ma lo seguirono mentre andava in ufficio e poi da lì fino a casa risultato nessuna intervista era molto spaventato poi c'è una donna che occupa una posizione di rilievo presso il tribunale di Las Vegas prima lavorava per una società fornitrice del ministero della difesa durante una riunione con alcuni funzionari apprese che il tema della discussione era il trasferimento di rotami di un relitto alieno da Roswell all'area 51 doveva fornirmi queste informazioni durante un'intervista privata già concordata il giorno stabilito però la signora non si fece viva ho scoperto che poco prima il suo precedente capo le aveva fatto notare che era ancora vincolata a rispettare il precedente accordo di riservatezza che avrebbero potuto processarla e cosa ancora più importante le fece capire che qualcosa sarebbe potuto capitare a lei o alla sua famiglia se mi avesse rivelato qualcosa le dissero sappiamo che lei viaggia spesso e non vorremmo che capitasse qualcosa a lei o ai suoi cari dopo tre anni lei si rifiuta di parlare con me il terzo esempio riguarda un signore che si occupava delle dichiarazioni dei redditi del personale dell'area 51 un giorno mi telefonò alla rete televisiva desiderava incontrarmi e darmi certe informazioni il giorno dopo andarono a fargli visita due uomini che dicevano di lavorare per i servizi segreti e che volevano vedere le sue dichiarazioni dei redditi mi disse poi che secondo lui a quei due non importava niente delle sue dichiarazioni dei redditi volevano soltanto che non parlasse dell'area 51 ci sono molte persone di questo tipo in possesso di notizie e che potrebbero confermare la storia di Bob Lazar se soltanto avessero il coraggio di farsi avanti non posso certo piasimarli perché il nostro governo o elementi del nostro governo o alcuni membri del nostro governo sembrano utilizzare delle tecniche intimidatorie capaci di ridurre chiunque al silenzio l'unica prova nelle nostre mani era un frammento del combustibile che alimenta questi velivoli che in qualche modo eravamo riusciti ad ottenere o meglio a sottrarre si tratta dell'elemento 115 un elemento stabile sul quale abbiamo effettuato vari test che abbiamo anche filmato l'esperimento doveva dimostrare il forte campo gravitazionale attorno all'elemento il suo elevato peso specifico ed altre cose siamo riusciti ad accertarle per noi stessi ma sfortunatamente quelli che gestiscono il cover up sono rientrati in possesso di quel campione ma c'è dell'altro il 21 marzo 1989 Bob mi chiese se volevo assistere ad uno dei voli di prova era un martedì e Dio gli chiesi ma come si fa lui mi disse ce ne sarà uno domani sera al tramonto ed io conosco un posto dal quale riusciremo a vederlo pur rimanendo sul suolo pubblico e Dio dissi fantastico ed aggiunsi ma perché proprio al tramonto e lui mi rispose che secondo le statistiche a quell'ora la zona era poco trafficata andai in macchina insieme a Bob ed al perito che aveva stimato la mia casa ed arrivammo lì poco prima del tramonto avevo il mio telescopio Celestron ed una telecamera uscimmo dalla macchina e nel giro di 10-15 minuti vedemmo un disco spuntare da dietro le montagne e compiere delle manovre incredibili c'era una luce forte fortissima e quindi non si poteva distinguere la forma del disco ma io tirai fuori il mio telescopio da 8 pollici che ha una notevole capacità di ingrandimento e dopo alcuni minuti riuscì ad inquadrarlo e vidi che si trattava proprio di un disco volante non c'erano dubbi poi scese lentamente dietro le montagne molti testimoni hanno potuto vedere fotografare e filmare i misteriosi oggetti evoluenti sull'area 51 sentiamo alcune fra le testimonianze più attendibili eravamo arrivati alla cassetta postale intorno alle 15 e 30 e poi andiamo a mangiare al ristorante Little Haileen il piccolo alieno torniamo alla cassetta verso le 5 e mezza era il crepuscolo e c'era già l'ombra della sera era mercoledì 28 febbraio 1990 parcheggiai e tirai fuori la mia sdraio improvvisamente alle 7 e mezza ci fu il primo avvistamento un'apparizione folgorante mi alzai di corsa dall'asdraio avevo la macchina fotografica appesa al collo una Nikon automatica da 35 millimetri scattai un paio di foto e poi ogni 45 minuti appariva un disco uno dopo l'altro 6 in tutto quella sera ma il secondo forse il terzo avvistamento fu assolutamente incredibile perché il disco si avvicinò di più a noi e riuscì a fotografarlo praticamente abbiamo visto un velibolo di forma ellittica che emanava una luce pulsante anche se non si riuscivano a distinguerne i contorni ma la forma era ellittica con una pulsazione luminosa scattai alcune foto avevo montato la lente standard ma senza un teleobiettivo potente quindi non potei inquadrarlo da vicino anche perché altrimenti sarebbe uscita un'enorme macchia di luce ma lo scatto deve essere avvenuto quando il disco si trovava nell'intervallo fra due pulsazioni quindi la foto mostra l'immagine nitida del disco con i suoi contorni si è trattato di un colpo di fortuna eravamo nel posto giusto al momento giusto con l'apparecchiatura fotografica giusta cosa è accaduto la notte che vi siete recati a Groom Lake nei pressi dell'area 51 quella notte il 21 febbraio 1990 accompagnai una troupe della Nippon Television Network a riprendere un volo di prova di un oggetto sopra il Groom Lake nella zona nota come area 51 arriviamo sul posto subito dopo il tramonto seguendo le indicazioni che quello stesso giorno ci aveva dato il signor Lazare e cioè piazzarsi dopo il tramonto vicino alla cassetta postale lungo la statale 375 e guardare verso sud direzione Groom Mountain e le colline Jumbles per vedere i test di volo di quegli oggetti quando arrivamo lì all'incirca verso le 6 e 45 improvvisamente vedemmo una luce arancio-giallastra apparire sopra le colline Jumbles che si spostò verso destra per circa 15 secondi poi alle 20 e 15 in punto effettuiamo un secondo avvistamento dello stesso oggetto che apparve sulle colline si alzò rendendosi ben visibile e si spostò verso destra e proprio in quell'istante scese di quota ed invertì la rotta io stimai una perdita di quota di circa 1500 metri quindi una perdita di quota ed un'inversione di rotta improvvisa in vita mia non ho mai visto una cosa simile e senza dubbio si trattava di un volo di prova di un oggetto volante anomalo una dimostrazione di una tecnologia e di un sistema di propulsione molto sofisticati non sappiamo cosa fosse ma di sicuro quella sera si trattò di un vero test di volo ho cominciato ad interessarmi del problema Area 51 fin dal 26 febbraio 1991 la data del mio primo viaggio sul posto fu proprio in quella occasione che mi avvicinai di più ad un disco volante era la prima volta che vedevo un UFO ero in macchina con un mio amico ed un oggetto molto grande iniziò a lampeggiare proprio sopra la nostra auto e a galleggiare a circa un chilometro e mezzo di distanza da noi nel mezzo del deserto ci precipitammo fuori ed iniziamo a correre e a poche centinaia di metri davanti a noi c'era questo oggetto a forma di disco con un diametro di circa 12 metri era una sorta di piatto con una tazza da te sopra emanava prima una forte luce rosso-arancio e poi un giallo molto brillante ad un tratto la luce diventò così forte che pensammo che stesse per esplodere ma salì di quota circa 70 metri e poi venne giù oscillando come una foglia per tornare a posarsi al suolo era un oggetto assolutamente incredibile ero davvero eccitato perché in tutta la vita non avevo mai visto nulla del genere alla fine riportiamo delle bruciature al viso un leggero avvelenamento da radiazioni febbre alta per 3 o 4 giorni forse dovuta all'esposizione alle radiazioni dopo quel viaggio sono tornato all'area 51 40 o 50 volte insieme a centinaia di persone il raduno era previsto in un posto chiamato Rachel la notizia l'aveva data una radio di Los Angeles e non solo a me era sembrata interessante infatti incrociamo un folto gruppo di persone nel ben mezzo del deserto c'era un pullman da turismo e forse 24 automobili dispersi in mezzo a nulla nel buio più assoluto siamo arrivati a Rachel dove siamo rimasti per tre quarti d'ora ad ascoltare le chiacchiere delle persone con la sensazione però che il punto giusto lo avevamo già superato da 25 km così siamo tornati indietro ci siamo fermati e abbiamo cominciato a guardarci intorno come facevano tutti gli altri finché non abbiamo visto il primo disco volante ho visto in cielo una stella incredibilmente luminosa e ho chiesto a John ma secondo te quella si sta muovendo? anche gli altri se ne erano accorti e lui mi ha risposto sembra di sì e proprio in quell'istante è venuta giù una specie di stella cadente che puntava dritto verso le montagne a circa 8 km da dove stavamo noi si è fermata poi si è spostata un po' sopra le montagne compiendo delle manovre che nessun tipo di aereo avrebbe potuto fare poi si è come bloccata e ha iniziato ad abbassarsi dietro il profilo delle montagne finché non l'abbiamo persa di vista ma nella notte avremmo visto altre cose strane intanto i passeggeri del Pullman applaudivano come per dire ehi ti abbiamo visto e dato che si stava facendo tardi beh non era neanche mezzanotte insomma tutti applaudivano e dicevano allora esistono e poi sono risaliti sul Pullman e sono partiti è riuscito a cogliere qualche dettaglio dell'oggetto no non quella volta eravamo proprio dalla parte opposta della grande valle a circa 25-30 km da dove avevamo visto l'oggetto scendere e volare sopra la valle la cosa più impressionante avvenne dopo che quasi tutte le altre persone compresi i passeggeri del Pullman andarono via erano rimaste solo tre macchine e noi eravamo seduti fra queste tre auto e guardavamo increduli quell'oggetto che compieva strane manovre dall'altra parte della valle e che si stava dirigendo proprio verso di noi procedendo quasi a balzi come se stesse puntando proprio verso di noi sì era proprio così proveniva da una grande distanza e proprio in linea retta c'era una macchina dall'altra parte proprio alla nostra destra con la luce accesa stavano preparando dei panini e quindi non videro nulla no neanche secondo me non hanno potuto vedere perché i sedili erano semi abbassati ho pensato che stessero dormendo e noi invece eravamo assolutamente esterefatti io ero a bocca aperta mentre la luce si dirigeva proprio verso di noi sì proprio stava venendo proprio verso di noi poi ad un tratto ho attraversato tutta la valle in un istante poi ci siamo spaventati è salita e poi si è fermata eravamo seduti nel pick up ed io stavo guardando in alto in questo modo e quella cosa si è fermata praticamente sulle nostre teste poi si è accesa una luce sul disco e insomma quando è venuto sopra di noi e si è fermato la luce sembrava che stesse sulla parte superiore noi siamo riusciti a vedere la silhouette del disco la forma era proprio quella di un disco ed era assolutamente silenzioso non si sentiva alcun rumore mentre sostava sopra di noi diciamo a una trentina di metri sulla nostra testa ed è rimasto ed è rimasto lassù per diversi secondi tant'è che ho cominciato a preoccuparmi abbastanza insomma ci potevano vedere e atterrare non sapevo cosa potesse succedere quindi ho iniziato ad avere paura e proprio in quel momento il disco è filato via verso le montagne cioè voglio dire 8, 10, 15 km e nel giro di neanche un secondo era già sopra la cresta delle montagne si è fermato ed è sparito dietro le cime nel filmato si nota anche che la telecamera è puntata verso il cielo ad un angolo di circa 30 gradi in direzione di Las Vegas e proprio a sinistra della base la telecamera è rimasta accesa senza che nessuno la toccasse per circa 45 minuti e mentre stavo parlando con qualcuno ho visto tre navi una proveniva da destra e ha compiuto un movimento velocissimo a ferro di cavallo un'altra è arrivata dall'angolo superiore destro dello schermo e si può notare che la nave probabilmente sta subendo uno strano effetto elettromagnetico infatti l'immagine diventa sfocata a causa dell'elettromagnetismo del disco che interferisce con lo strato metallico che si trova sul nastro poi l'oggetto compie un loop si blocca e accelera verso destra da 0 a 40.000 miglia mentre un terzo oggetto sbuca dall'iperspazio come dal nulla e fa un cerchio che si nota a rallenti diventa disco idale e si sposta di nuovo lateralmente e scompare dallo schermo con un'accelerazione improvvisa da 0 a 60.000 km all'ora l'ultima cosa che si vede sulla registrazione è un primo piano da una distanza di 10 km circa ripreso con uno zoom da 12 pollici in questo primo piano si vede che la nave ha in realtà la forma delle ali di un pipistrello la telecamera è puntata verso l'infinito ed effettua una zoomata su un oggetto situato ad una grande distanza riprende le varie parti dell'oggetto ma in realtà quello che accade è che da lontano si vede l'oggetto pulsare e mentre l'inquadratura si avvicina si vedono come delle nuvole davanti al disco ma si tratta del campo di energia o del campo gravitazionale generati dal disco mentre gira su se stesso e quindi si ha l'impressione che ci siano delle nuvole che si muovono davanti al velivolo poi si vede la nave spostarsi in alto a destra ed uscire dall'inquadratura e riapparire in basso a sinistra allora ho passato la telecamera ad una ragazza che si trovava lì vicino alla cassetta postale e sono saltato in macchina e ho cercato di rincorrere questo oggetto subito dopo a quasi 6 chilometri dopo il deserto un paio di veicoli militari sono sbocati dal deserto a luci spente erano un fuoristrada nero ed un pick up verde militare a 4 ruote motrici e si sono uniti ad un terzo veicolo che era lì e poi hanno fatto inversione tutti e tre ed hanno acceso tutti i fari illuminando tutto a giorno sono sceso e mi hanno minacciato con delle armi e mi hanno detto di risalire in macchina e di andarmene altrimenti mi avrebbero sparato io sono risalito in macchina e sono tornato indietro perché dovevano avere qualche problema con quella nave e forse erano atterrati in una zona non militare al centro della Tikaboo Valley vorrei vorrei sottolineare che nell'area 51 ci sono tre diversi sistemi di sicurezza uno lungo il perimetro esterno uno interno ed il normale servizio di sicurezza militare più i servizi di sicurezza automatizzati stiamo parlando della sicurezza lungo il perimetro esterno l'area 51 si affida a società semi-private come la Wakenut Corporation noi la chiamiamo Wakenut SS per via del modo in cui lavorano Wakenut SS è la sigla per Wakenut servizi di sicurezza sono incaricati del controllo del perimetro esterno dell'area 51 e poiché si tratta di una compagnia semi-privata non hanno alcune insegna di reparto indossano semplicemente tute mimetiche sono armati di mitra eccetera guidano veicoli fuoristrada e intimidiscono tutti i cittadini che si azzardano a passare per una qualsiasi delle strade a sud della statale 375 come cittadini abbiamo tutto il diritto di circolare da quelle parti purché non si oltrepassino i segnali di divieto le nostre vite sono state seriamente messe in pericolo da un elicottero che compiva manovre pericolosissime mentre ci trovavamo sul suolo pubblico il giorno 16 maggio 1991 una parte del gruppo eravamo 18 in tutto si trovava su sette macchine che procedevano in colonna e stavamo quindi tornando dalla groom road dopo aver fotografato i segnali di divieto d'accesso e ci stavamo dirigendo verso la statale 375 improvvisamente abbiamo sentito un rombo come se stesse passando un treno sulle nostre teste allora abbiamo guardato fuori e abbiamo visto un elicottero militare che era sceso a non più di 2 3 metri sulle nostre auto lo scopo era quello di spaventarci diciamo di dissuasione per i successivi 15 o 16 minuti abbiamo cercato di sfuggire a questo elicottero che come ho già detto era privo di insegne e che sapevamo essere in diretto contatto con i fuoristrada che ci avevano seguito prima cercavamo comunque disperatamente di uscire da quella zona e siamo stati inseguiti dall'elicottero per ben 15 minuti c'è stato persino un momento in cui ha avvirato ed ha iniziato a procedere contro di noi alla stessa altezza delle nostre macchine per intimidirci con manovre illegali manovre che mettevano in serio pericolo la nostra vita dove è? dove è? eccolo Gesù è andato dietro la montagna eccolo eccolo si continua a girare si sta sta volando lì sopra si è fermato lì lì devo mettere più contrasto per vederlo forse forse è meglio che guarda guarda come brilla guarda ecco eccolo eccolo lì guarda come guarda come guarda come guarda come guarda come guarda come test flying over there continuo per la prossima lì 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 guarda come guarda come guarda come guarda come capitolo Oh Hovering all that I had to put the gain on just to see it Why am I better right right bread break It's worse only like this isn't doing me any good. Yeah I think so I Who's that Gary come to shut up? Yeah, look what he's talking You see it doing zig zag before Yeah I'm flying all right You can just go You have always checked out that night Dalla troop giapponese Sono state analizzate dalla Nippon TV Con l'ausilio di computer all'avanguardia Il risultato è stato che non si trattava Di un aeromobile convenzionale It's definitely no conventional aircraft It's definitely no conventional aircraft It's definitely no conventional aircraft It was upset for us Itachi Shuzaihan Ha satsuei Hicoubuttai Ho computer Una troop Della Itachi Ha ripreso questa strana luce Un UFO Le immagini registrate Sull'area 51 Sono state sottoposte Alla scansione elettronica Dei pixel Attraverso computer I pixel Sono stati colorati Lo stesso procedimento È stato applicato Alla luce di un faro D'automobile L'effetto è diverso Infatti la luce del faro Sottoposta al trattamento elettronico Si modifica Mentre quella dell'UFO Resta identica È una luce che non esiste La luce di un UFO Ma anche nei dintorni di Las Vegas Vengono costantemente avvistati Oggetti volanti non identificati Sottoposta al trattamento elettronico Sottoposta al trattamento elettronico